Siamo qui davanti alla mia decima fata e questa decima fata mi sta un po' dentro perché è stata presentata nella collezione delle fate Arlecchino come consuntivo di un'espressione di totalità delle qualità della donna, quindi una decima fata che attraverso la luce e la forma dovrebbe essere capace di trasmettere l'unicità della donna, la sua perfezione. Sulla base di questa opera ho avuto la fortuna attraverso l'intervento del museo di Capua dove tra l'altro ho lo studio, attraverso la persona del maestro Brandi, di potermi esprimere anche in un altro campo che è quello delle nove muse. Quindi sullo schema della decima fata ho fatto una produzione stilistica delle nove muse greche. Tra l'altro la mia preferita è Euterpe, la musa della musica e viene rappresentata con il doppio flauto, l'aulos e diciamo che in questa caratteristica stilizzazione ho fatto in modo di lasciare la femminilità della donna che è poi anche musa e questa produzione verrà presentata al Palazzo Ruspoli il 14 di aprile. Mentre invece la decima fata sarà presente anche il 15 marzo alla Wifry Gallery che è a Piazza Van Vitelli. Ci sarà una esposizione che riguarderà tutto il mio gruppo che è il gruppo di pensiero visivo che diciamo tutti i ragazzi e gli artisti che hanno aderito alla corrente letteraria che sto cercando di portare avanti, diciamo un movimento artistico che prevede l'utilizzo di una poetica scritta che fiancheggia l'opera. Questa cosa la si fa per far sì che il fruitore venga, è come tendere un po' la mano al fruitore per fare in modo che lui possa intravedere qual è l'emozione che l'artista voleva trasmettere. Quindi il gruppo, ognuno con tre quadri, presenterà su Caserta questo lancio di questo movimento artistico che già è nato al Museo di Capua l'anno scorso. La cosa comunque importante è la mostra d'arte, soprattutto perché per quanto mi riguarda mi è piaciuto il concetto base su cui gira la filosofia di pensiero visivo, questo di collegare alla pittura la scrittura in modo che non ci sia distacco tra il fruitore dell'arte e l'artista. Penso che questo sia, in linea di massima, lo scopo di portare le persone a contatto con l'arte contemporanea senza avere il senso dell'inedeguatezza, di non conoscere e di non sapere e anche l'abbinarci nei momenti leggeri, la danzatrice dei Setteveli, il momento musicale e per far avvicinare quanto più pubblico è possibile all'arte anche di persone che normalmente la ignorano perché magari si sentono inadeguati o ignoranti rispetto al discorso artistico in genere.